Oh, smettila di preoccuparti di papà! È andata a dormire molte ore fa! Un momento, giovanotto! Accipicchia. Dovremmo mangiare in quel ristorante più spesso. Ti lasciano dei soldi sotto il piatto. Accipicchia. Dovremmo mangiare in quel ristorante più spesso. Ti lasciano dei soldi sotto il piatto. Come sono felice di vedervi! È l'ora di chiusura, Signore. È l'ora di chiusura, signore. È l'ora di chiusura, signore. Hai avuto una giornata difficile all'autorimessa? Ci porti dal barbiere più vicino. Ci porti dal barbiere più vicino. Ci porti dal barbiere più vicino. Ah, l'hai notato. Sì, effettivamente ho perso alcuni chili. Accipicchia, che ondata. Accipicchia, che ondata. Accipicchia, che ondata. E' cortese, gentile, sincero, premuroso, servizievole, affabile, comprensivo, leale. È noioso, amore. E' cortese, gentile, sincero, premuroso, servizievole, affabile, comprensivo, leale. È noioso, amore. Penso che si possa eliminare la malnutrizione. Bene. Almeno il clacson funziona. Bene. Almeno il clacson funziona. Bene. Almeno il clacson funziona. So che può fare di meglio. So che può fare di meglio. So che può fare di meglio. Sono sicuro che non è niente cara. Ci sono molti rumori strani qui in campagna. Sono sicuro che non è niente cara. Ci sono molti rumori strani qui in campagna. Ti rendi conto, Ernesto, che questo costituisce causa di divorzio? Ti rendi conto, Ernesto, che questo costituisce causa di divorzio? E se non fosse una trovata pubblicitaria? E perché esattamente non cadiamo giù Vittorio? E perché esattamente non cadiamo giù Vittorio? E perché esattamente non cadiamo giù Vittorio? E perché esattamente non cadiamo?